Ciao ragazzi sono Crax e bentornati su Clash Royale. Prima che cominci l'episodio, quest'oggi è episodio top perché andremo a testare un nuovo deck con il drago elettrico nella sfida rilasciata alla Supercell per questo fine settimana, voglio raccontarvi, dato che me l'avete chiesto in tantissimi, come è stato, come ho vissuto il Lucca Comics & Games. Innanzitutto voglio ringraziare Vodafone per la fantastica esperienza che mi ha permesso di vivere. Ho incontrato tantissimi di voi, abbiamo fatto una maria di foto, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo giocato al gioco che più ci piace giocare e ho avuto la possibilità di ispitare Lonnie the Wolf e altri pro player di Clash Royale. Il panico. Vodafone sta organizzando diverse tappe in giro per l'Italia, se non erro ne mancano altre 10 e a Lucca si è svolta la seconda tappa del Vodafone eSport Tour. Mi raccomando ragazzuoli, informatevi perché magari vicino a voi potrebbe esserci la prossima tappa e quindi potreste partecipare per mettere in mostra le vostre abilità in game. Attenzione, ci sono dei premi in palio veramente molto molto interessanti. Oltre all'accesso alla serie A e WC e quindi diventare dei pro player, si può vincere un viaggio tutto pagato per l'Esle One di New York. Tanta roba. Giocando nelle varie postazioni che state vedendo in questo momento ho avuto anche la possibilità di testare la loro connessione super veloce e fatta apposta per il gaming. Vi giuro ragazzuoli qualcosa di assurdo che va appunto a giustificare l'hashtag play faster. Complimenti alla Vodafone che sta investendo tantissimo sul pro gaming ed è una cosa fantastica per il futuro dell'esport italiano. Grazie ancora Vodafone per la fantastica esperienza e grazie a tutti voi per l'immenso supporto che mi avete dimostrato durante questi giorni a Lucca. Un abbraccione gigantesco. Ed eccoci qua ragazzi finalmente tornati nel mio account principale. Quest'oggi top episodio. Come spiegato all'inizio del video sono qui per testare un nuovo deck con il drago elettrico. Ma non un deck qualsiasi, non un deck scarso, non un deck creato da me ma un deck preso dalla top globale. Se non erro in questo momento è secondo con 5942 coppe. Di che deck sto parlando? Deck costo 4.1 con drago elettrico, drago normale e golem. Sono curiosissimo di testarlo. Ho scelto un 4.1 perché nella sfida che andremo ad iniziare oggi dobbiamo fare corone. Solamente corone. Non prendo in considerazione le sconfitte e voglio fare più corone possibili con il minor numero di attacchi. Ne faremo solamente 3 in questo video. Un applauso gigantissimo alla Supercell che rilascia queste fantastiche sfide completamente gratis che ci permettono di testare dei deck molto molto particolari. E io vi lancio una sfida perché se quest'episodio supera, boni, 10.000 pollicioni in su, vi prometto che torneremo con un altro deck strano. Magari consigliatemelo voi qui sotto nei commenti. Quello con più like lo porterò prossimamente. Grazie a tutti per il supporto. Vamos regà, uniamoci gratis. Ovviamente come carta alloccata abbiamo il drago elettrico. Devo costruirci intorno il deck. Mettiamo il golem, vado di drago normale, tornado eccetera. Ok, manca solamente la firepalla. Deck completo, vi dico solo con una paura incredibile perché costa 4.1. Sono abituato ad utilizzare dei deck un po' più leggeri. Cycle deck con il domatore. Riuscirò a giocarmelo allo stesso? Speriamo, siamo contro Erasmus livello 9. E la mia mano iniziale è abbastanza interessante. Con cosa posso partire? Parto con un maghetto di ghiaccio. Lo piazziamo in basso a sinistra. Non dirmi che mi ha riconosciuto perché sta spammando Wawa Go Go. Uh, boni tutti mastino lavico. Attenzione mastino lavico. Questa è una mossa molto molto interessante. Vabbè, lo silenziamo ragazzi perché mi sta dando i nervi. Il mago di ghiaccio si è alloccato sul ponte. Non siamo messi male, ma neanche bene. Vado di tornado per unire il tutto e per colpire con il mio drago elettrico. Sono hit molto molto importanti, ma non mi piace la situazione. Deve resistere il drago elettrico. Devo cercare... Aia ragazzi, non mi piace per niente la situazione. Immediatamente una firepalla, cerchiamo di deviare il tutto e cerchiamo di far fuori il suo drago infernale. Sicuramente mi sbaglierò un tot con i nick, drago elettrico infernale, draghetto eccetera. Scusate, ma non sono abituato a castarli. Messo un bel boscaiolo sulla sinistra, riesce a piazzare un'orda di scheletri, ma grazie al maghetto. Forse strappo un paio di hit a torre, ne strappo uno. Va più che bene. Sono contento. Ma adesso ragazzi... No, non arriva il bello. Perché è riuscito a posizionare un altro mastino lavico. Io vorrei mettere il golem, ma mi conviene? Non credo. Drago elettrico tattico difensivo. Piazziamo anche un draghettino sulla sinistra. E devo cercare di unire il tutto e sparare una bella fireball per indebolire. Vado di drago. Vado di tornado. Cerchiamo di far avvicinare il tutto. Il drago elettrico sta a botta. Fa dei danni incredibili. Ci serve il per due ragazzi. Con il per due distruggiamo tutto e piazzi un bel golem. Ma lui ha messo una fireball veramente incredibile. Voglio il golem. Ho bisogno di un golem. Un minuto e sei. Potrei posizionarlo. Aspetto e lo piazzo da dietro. Tre, due, uno. Golem ha messo. E adesso ci divertiamo. Adesso facciamo vedere tutta la nostra supremazia. Drago elettrico sulla sinistra. Ci sta un botto. Quel suo draghetto infernale. Quasi quasi. Cerco di unire il tutto. Di ammassare il tutto. Con il draghetto riesco a far fuori il cerbo otteniere. Con il boscaiolo. Prendiamo a pizza la torre. Vamos di bariletto barbarico. Interessante. Arriva anche la furia. Ci siamo difesi la stragrande. E io ragazzi cerco di puntare alle tre corone. Lo so. Si è difeso benissimo. Il golem ci sta. Altro boscaiolo. Voglio andare a torre. Dieci secondi ce la possiamo fare ragazzi. Lo so. Secondo me si può fare. Dobbiamo far scoppiare il golem. Ma rimane un secondo. Vittoria sull'1-0. Il deck è buonissimo. Pensavo sinceramente di strappare un due corone oppure un tre corone. Calma. Questa è stata una partita di rodaggio. Andiamo subito con la seconda. Ma prima dobbiamo prendere la ricompensa. Non è vero. Ci servono due corone per il baule argentato. Meglio di niente. Siamo partiti. Seconda partita contro un livello 9. Russo. Ma che. Mano iniziale discutibile. Lui infatti piazza subito un drago elettrico. Io metto il mio. Vedremo uno scontro. Drago elettrico versus drago elettrico. Potrei supportarlo. Ma non credo abbia senso. Invece forse sì. Perché il drago elettrico mi colpisce il. Ho fatto una volata assurda ragazzi. Ho sprecato un botte di siri inutilmente. Ma anche lui sta sprecando tantissimo. Cioè non è che. Cavolo. Mi tocca andare di fire palla. Raga non sto messo per niente bene. Mi serve immediatamente il barbarello. Riesco a colpire. Mi prendo un hit a torre da pollo. E provo un push. Incredibile. Boscaiole barbaro. Di sicuro non si gioca così. Ma almeno spero di fare un paio di hit sulla torre. Almeno due. Due li abbiamo fatti. Abbiamo anche un barbaro. Che potrebbe dare una spatata che non dà. Diciamo che il drago elettrico ci dà enormi problemi. Ma anche lui è un mazzo molto molto simile al mio. Fireball perfetta. Ora abbiamo la supremazia di Rieser. Il golem non glielo toglie nessuno. Messo sulla destra. Lui va con un mega sgherro. E ora devo essere io bravissimo a supportare. Abbiamo il bariletto barbarico comodo contro l'eventuale cerbo taniere. Infatti. 3, 2, 1. Bariletto barbarico. Dovrei toglierlo. Vero? Sì. Tolto. Il barbaro va sul maghetto di ghiaccio. E se riesco. Provo a posizionare un boscaiolo in estremis. Che potrebbe eventualmente andare a torre. Non ne sono sicuro. Ma con l'aiuto di una fireball. Facciamo pochissimi hit. Lui si difende molto bene. E non ho preso neanche. Ma non ci credo. Ma che sfiga ho. Cioè non ho preso il mega sgherro con la fireball. Ma non ci voglio credere. Ma sono sfigatissimo. Mi serve immediatamente un draghetto tattico per togliere quel mini push. Qualche hit l'abbiamo fatto. Ma adesso è in per due. Picchiamo come se non ci fosse un domani. Non so utilizzare questo deck ragazzi. Non so utilizzare questo deck. Di sicuro mi serve una top tornado per unire il tutto. Andare di bariletto barbarico di fireball. E l'ho difesa eh. L'ho difesa. Ho sprecato forse l'elisir necessario per posizionare il golem. Vado con un draghetto. Ci sta di brutto la sua firepalla. Altro drago elettrico. E raga. Adesso dobbiamo immediatamente pushare. Ma non ho il mana. Vado con un boscaiolo. Non so cosa fare. Potrei posizionare una tornata interessante. Quella tornata mi unisce tutto quanto a torre. Il boscaiolo non hit. Alla fireball sì. Prendiamoci quella torre. Vai draghetto. Fai l'impossibile sulla torre. Colpisci come se non ci fosse un domani. Mancava un hit ragazzi. Un hit piccolissimo. Che purtroppo non è arrivato. Drago elettrico. Aia. Hit importanti per il social bottaniere. Arriva la fireball. Fireball che arriva troppo in anticipo. Il boscaiolo ci fa due hit. Abbiamo vinto. Tre hit. GG. Una partita tesa. Ho giocato una volta il golem. Lui aveva un sacco di truppe di supporto. Ma comunque l'abbiamo spuntata. Il deck ci sta. Riesca a giocare una partita seriamente. Magari l'ultima. Lo spero con tutto il cuore. Baul argentato. 141 di oro cura. E 16 tesla. 3, 2, 1. Vamos con l'ultima partita. Armangon. E questa volta finalmente il golem di prima mano. E lo posiziono subito sperando di non prendermi un counter push. Per il momento. Megasguero sulla sinistra. Che posso tranquillamente difendere con un drago elettrico. Ma anche lui ha posizionato un cattivo drago elettrico. Posso aspettare. Tanto il megasguero non fa poi così tanti hit. Vado a questo punto con il drago elettrico. E cerchiamo di fare il push della vita. Arriva un boscaiolo. Interessante. Arriva anche il bariletto barbarico. E tutti hanno il mio... No ragazzi. Non ci voglio credere. Più o meno le mie stesse carte. Spero che non abbia il golem. Abbiamo fatto un hit. Qualche danno è arrivato. Vado con un boscaiolo ed è l'unica cosa che posso fare. Devo cercare di pushare. Magari mettiamo anche un draghettino. Eventualmente ci piazza la tornado. Oppure una fireball. Sì ragazzoli. Sono hit importanti. Lui si è difeso con un sacco di lissir. Ho messo una tornado folle. E ho portato la torra a 1050. Devo solo difendere. Arriva il bariletto barbarico. Ma il drago elettrico è troppo pin difesa ragazzi. Il drago elettrico è troppo pin difesa. Ma quanto è forte. È un qualcosa di illegale. Devo solo aspettare il per 2 di lissir e piazzare il super golem sulla torre di sinistra. Mago di ghiaccio in difesa. Tranquillissimo. Vado a rallentare il tutto. Ovviamente tolgo il suo mago di ghiaccio. E potrei sfruttare il per 2 per mettere il mio golem e magari qualcosa in supporto. Tipo il draghetto. O la tornado. Secondo me come giocata ci sta. Cerchiamo di spostare tutto sul golem. Il boscaiolo l'abbiamo prosciugato. Il golem di sicuro ci tira giù la torre. Ma difenderà tutto da questa difesa. Non è vero. Se l'ha giocata molto molto bene. Forse una tornado messa troppo in antisio. Perché il golem riesce a prendere la torre. Con il mago di ghiaccio cerchiamo di difendere. E mettiamo anche un boscaiolo super top. Per non prendere hit pesantissimi dal golem. Ci siamo difesi ragazzi. Ma non è ancora detta l'ultima. Altro golem difensivo. Voglio distruggere immediatamente tutto quel push. Piazzo un draghetto. E con il mago di ghiaccio ce l'abbiamo fatta. Non può farci 559 di danno. È impossibile in 3 secondi. 2 1 Bella vittoria. L'abbiamo spuntata contro più o meno il nostro stesso deck. Con al posto del... Non capisco. Mago di ghiaccio? No il mago di ghiaccio ce l'aveva. Al posto del baby drago. Il mega sgherro. Ragazzuoli fatemi sapere cosa ne pensate di questo deck qui sotto nei commenti. Consigliatemene altri perché ci farò altri video. Vi ricordo come sempre un bel pollice all'inizio di supporto. Commentino qui sotto. Vado al sondaggio in alto a destra. E noi ci vediamo probabilmente domani. Con un episodio di Clash of Clans. O Clash Royale. Un saluto e un abbraccio da Crax. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao.